Il piano spiaggia che il comune di Giulianova si appresta ad approvare sta suscitando non poche discussioni. Dopo la protesta della presidente di Unica Beach per la mancanza nel piano della spiaggia per animali di affezione, ora ad annunciare battaglia il presidente provinciale del Sib, il sindacato italiano dei Balneari, che come primo atto ha deciso di scrivere la regione con l'intento di fermare il nuovo piano del comune, perché contrario alla riduzione delle spiagge liberi assieme ai tagli imposti. Di chiarire che cosa si intende il piano demaniale marittimo, se si intende soltanto le concessioni balneari oppure tutto quello che esiste sul demanio, anche i chioschi sulla strada, la stessa strada, per esempio ci sono i lungomare, sia nord che sud, sono demaniali, perciò devono risultare sul piano demaniale. Devono chiarire se il 20% si deve calcolare sull'esistente o su quello futuro da concedere dopo le concessioni. In particolare Scilli chiede i chierimenti attraverso una lettera indirizzata alla Direzione Marittima, all'Agenzia del Demanio e all'Agenzia delle Dogane, in riferimento all'articolo 5 del piano demaniale marittimo regionale, in cui al punto 1 vengono indicati i criteri generali per la redazione dei provvedimenti sulle spiagge comunali. Il litorale di Giuliano è di 5 km, va bene? Secondo questo piano spiaggia è diventato di 4.100 metri. Facendo la somma delle concessioni esistenti così come sono, siamo a 3.900 metri e qualche cosa. Il 20% sono 600 metri, ne abbiamo 1.100, io penso che il 20% esiste, perciò non devono fare nessun taglio e nessuna cosa.